Casertana è una squadra che sta vivendo un buon momento, perché a parte la sconfitta dei Terni, nell'ultima partita è sempre fatto bene. È una squadra di possesso palla, secondo me è forte nella fase offensiva, è un po' meno forte nella fase difensiva. Hanno subito tanti gol, quindi è un po' quello il loro punto debole, perché attaccano in tanti e quindi lasceranno spazio, credo, alle ripartenze. Non credo che cambieranno gioco con noi. E quindi è una squadra forte in forma in questo momento, in cui la fase offensiva è la fase predominante. Questa è la Casertana. Poi all'interno della partita Casertana-Termo c'è la competizione, c'è tutta una serie di discorsi che vanno oltre l'aspetto tattico, che sono secondo me quelli che sono alla fine determinanti, che sono gli aspetti mentali. Abbiamo recuperato, la squadra sta bene. abbiamo fatto una settimana giusta perché venivamo da tre partite, perché la settimana prossima abbiamo tre partite. Quindi i carichi di lavoro sono stati carichi alla luce di queste dinamiche che ci saranno. Però abbiamo visto la squadra totalmente recuperata e bene fisicamente, quindi per domani siamo molto fiduciosi. Con il 4-3-3 secondo me siamo molto più efficaci a livello difensivo, un po' meno efficaci a livello offensivo. Con il 4-2-3-1 secondo me avevamo un po' più soluzioni e quindi sarà un modulo che secondo me potremmo tornare a vedere. Non so se in questa partita o nella prossima, non lo so. Vediamo, perché comunque col 4-3-3 lasciare sempre solo l'attaccante distante dalla porta è un po' così. Lascia un po' di difficoltà alla nostra fase offensiva. Sono difficoltà tattiche che poi ogni modulo ha i suoi proie e i suoi contro. Quindi la scelta è per questo. Si cercano equilibri affinché la fase difensiva e la fase offensiva abbiano un buon equilibrio. Insomma, questa è la scelta. Carlo, l'ho visto molto bene in settimana, è un giocatore che la squadra non può per scendere da Carlo. Ha avuto un po' di appannamento fisico, ma ci sta. Però è un giocatore importante per noi. Non posso non considerarlo, tenerlo fuori per troppe partite. Insomma, per questo l'immaginazione è corretta. Mi aspetto di vedere la stessa prestazione e lo stesso atteggiamento che abbiamo avuto nelle ultime trasferte. Però naturalmente mi aspetto di vedere una squadra un po' meno di bravi ragazzi e un po' più convinti di voler portare a caso il risultato, che per noi sarebbe fondamentale.